Mai dire 30 minuti di marketing, il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più. Benvenuti in mai dire 30 minuti di marketing, sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte del filo, sempre puntuale, Giuseppe Franco, esperto di public speaking, che saluto! Eccomi, eccomi, rido perché oggi per colpa mia abbiamo un po' rifatto tante volte all'inizio, questa volta è andata, non ci fermiamo mai in genere così, però adesso è l'inizio che abbiamo cominciato a ridere come di deficienti, abbiamo rifatto per la seconda volta. E' vero, è vero, è vero. Senti, questa puntata nasce da una domanda molto importante, molto specifica ed è questa, come faccio a sapere se la mia è una buona idea di business? Non so quante volte a te è venuta in mente una frase come questa, una domanda come questa, c'è avuto una buona idea di business, come faccio a valutarla? Non so se ti è mai capitato, però Giuseppe. Sì, assolutamente, una di quelle cose, quella più piccola, quella più grande come idea, è lì si è sempre combattuto, perché poi di base l'idea ti porta in quei momenti in cui noi pensiamo ad un'idea, ad essere neanche innamorati di quell'idea, però l'innamoramento dell'idea ci rende ciechi, quindi non riusciamo a vedere alcuni aspetti. Allora il problema qual è? Il problema è che poi rischiamo di dedicare del tempo un'idea che non sarà funzionale, funzionante, per cui lì è importante invece soffermarsi, fare una certa analisi, perché sennò rischiamo di perdere tempo. E queste domande che dovremmo porci vanno, come dire, un po' a toglierci in qualche maniera, come si dice, i prosciutti dagli occhi, perché riusciamo a vedere quella che è la verità. Non è così semplice comunque. Senti, a proposito dei prosciutti dagli occhi, molti anni fa ebbi la fortuna di incontrare un grosso imprenditore, io ero un ragazzino, insomma era ancora molto giovane, e questo grosso imprenditore, tra l'altro, a parte che aveva un'azienda che veramente fatturava qualche milione, e ancora oggi probabilmente fattura qualche milione di euro, lui era anche molto, come dire, propenso a supportare le idee degli altri. Quindi diceva, ma era quello che oggi veniva, che oggi viene chiamato un business angel. E quando io mi trovai a parlare con lui un po', perché avevo una mezza idea nella testa, all'epoca lavoravo, avevo un mio lavoretto, insomma facevo delle cose e così via, Però lui mi disse una cosa interessante, mi disse questo, io prima ancora di valutare l'idea, valuto la persona, dopodiché valuto l'idea. Per valutare la persona, io faccio solitamente tre domande, e mi disse, con queste tre domande, in genere, faccio fuori il 99,9% delle persone che mi chiedono di diventare... Un massacro praticamente, voglio dire. Un massacro, e se vuoi te le faccio anche a te, e mi dice, devo dire, preoccupato, mi dice, beh, allora sì, mi faccia queste tre domande. E queste tre domande furono queste, cioè, disse Massimo, tu sei disposto a lasciare il tuo lavoro attuale per inseguire, per realizzare la tua idea? Sei disposto a sacrificare dei soldi, i tuoi soldi, che magari non sono neanche tanti, per fare in modo che funzioni? E soprattutto, hai quello che ti serve per essere un imprenditore. E io mi misi in fila, insieme al 99,9% delle persone, perché effettivamente, al di là di tutto, insomma, ero anche disposto magari a lasciare il lavoro, ero anche disposto a sacrificare i pochissimi soldi che avevo, ma mi resi conto che non avevo grandi esperienze come imprenditore. Infatti poi, da quel momento, cominciai anche a studiare un po' di, come dire, i principi base dell'imprenditorialità e così via. E da qui mi collego poi a quello che sarebbe successo da lì a qualche anno, quando mi licenziai dalla Olivetti, che ero stato assunto a tempo indeterminato per realizzare poi il mio sogno imprenditoriale, e mi ricordo le parole di mia madre, che era disperata, e lei mi disse, no, tu dovresti prima fare in modo che il tuo nuovo business, mi disse business, il tuo nuovo lavoro cresca e comincia a diventare importante, quando è diventato più importante tu lasci il lavoro sicuro che in questo momento hai. Però io mi resi conto che se veramente avessi voluto far crescere la mia idea di business, dovevo dedicarmi al 100% a quell'idea, perché a volte tu ti dedichi al 100% a quell'idea e probabilmente hai soltanto, come dire, appunto una probabilità di avere successo, ma se non ti dedichi al 100% forse hai la sicurezza di non farcela. Allora io feci questa scelta, un po' folle probabilmente all'epoca, mi licenziare da questo posto sicuro, a tempo indeterminato, e mi lanciare in questa mia nuova idea imprenditoriale, che ho portato avanti per molti anni, prima di cambiare ancora, e poi iniziare con il marketing, quello che sono oggi. Però insomma, da un certo punto di vista capisco mia madre e le sue preoccupazioni, però feci una scelta diversa, da un certo punto di vista in questo, caro Giuseppe. Sono sempre combattuto su queste cose, perché ci sono approcci diversi, per poter avvicinarsi ad un'idea, eccetera. Io, tra quella che si dice, adesso non ricordo bene l'autore, tantomeno neanche nello specifico la frase, ma è quella di dire, vuoi dedicarti a una cosa, insomma brucia le navi, lascia tutto alle tue spalle, buttati appieno nella tua idea. Ed è un approccio che ti dà la possibilità anche di vedere di più, perché quando tu sei in una situazione di pericolo, questa è proprio una legge della sopravvivenza, hai l'occhio un po' più lungo, riesci a vedere delle cose che quando sei tranquillo non riesci a vederle. È un po' quando dicono, quando uno ha paura di parlare in pubblico, nel momento la paura ti serve, perché ti dà proprio la possibilità di trovare delle cose che non avresti immaginato prima. E quindi questo è funzionale. D'altro canto, però, questo non riesce a farlo sempre, non riesce a lasciare, tu parlavi di lavoro, no? Il lavoro che uno ha, già sicuro, per buttarsi appieno nella propria idea, e non viene così facile, ti vengono un sacco di paure, e capisco il fatto della strage di cui parlavi, strage intesa di persone che praticamente il 90% se ne va, non accetta quella, non va avanti con la sua idea, perché è veramente una domanda difficile. E poi, d'altro canto, invece, ho un approccio un po' più cauto. L'approccio cauto che continuo nell'attività che faccio è sbircio nella nuova idea. Però anche quello non sempre, non sempre si rivela efficace, perché tu non vedi, non riesci a vedere delle cose, sei sempre cauto, non vai fino a fondo. Quindi, questo mio è un approccio veramente combattuto, con tutti gli errori. Però una cosa possiamo dirla, che è quello che poi ci accompagna nella puntata, alcune domande sulla base di quelli che sono degli errori, certamente quelle cose che possiamo farle. Oltre alla domanda che ti ha detto in questo racconto che tu riportavi, ci sono delle cose che noi possiamo guardare con attenzione e almeno evitare di essere così, come dicevamo, un po' ciechi nel non riuscire a vedere qual è la soluzione per la nostra idea. Ma questo senz'altro. Allora, io voglio fare una premessa, essendovi una premessa importante, cioè nel senso che probabilmente non esistono delle regole aure per cui tu fai uno, due, tre e ottieni il risultato. Oppure applichi la lente in questo modo ed effettivamente ti rendi conto se la tua idea di business è una buona idea di business oppure no. È un po' come dire la frase che ho nell'ufficio che dice tutte le cose grandi e bellissime nascono dall'avere prima guardato senza indietreggiare nell'oscurità. Cioè nel senso che comunque un piede nell'oscurità lo devi andare a mettere. Cioè devi mettere un piede in una zona d'ombra dove non sai il prossimo passo se vai con un piede nell'acqua, se vai con un piede dall'altra parte e così via. Però se ci rifletti e mentre tu parlavi mi veniva in mente proprio questa roba qua. Tu immagina lo smartphone. Nello smartphone a un certo punto è venuta fuori quest'idea di eliminare i tasti, quei labelli di plastica carini, puliti, sistemati che stavano non so tipo sul Blackberry ma su un po' tutti i telefoni dell'epoca e eliminare completamente questo e mettere una tastiera digitale sullo schermo. E quindi le persone devono premere con le dita sopra questo vetro, sopra questo schermo per scrivere. Oggi è una cosa che fanno tutti con molta tranquillità e nessuno si sognerebbe di fare diversamente. Ma all'epoca probabilmente quando è venuta fuori quest'idea che qualcuno ha detto guarda facciamo una tastiera digitale che esce direttamente sul modello dello schermo cioè sullo schermo del telefono le persone con le dita io sono sicuro che migliaia di persone probabilmente avranno detto questa è un'idea pessima perché in questo modo si unge tutto lo schermo si macchia tutto lo schermo con le tue dita ma chi vuole che possa essere interessato a qualcosa di questo tipo. Eppure oggi nessuno si sognerebbe di tornare indietro e utilizzare i tastini quelli là tipo alla Blackberry per cui probabilmente ci sono delle idee che è difficile di basta e sapere se sarà un successo oppure no è una zona d'ombra e questo mi viene in mente con un po' tutte le cose che hanno avuto successo negli ultimi anni anche lo stesso di YouTube se ci pensi che ci sono migliaia di video ma se tu torni indietro e dici guarda ora creo un'area su internet dove le persone possono caricare i propri video personali e poi qualcun altro mi darà dei soldi per fare pubblicità probabilmente la gente si metterebbe ancora oggi forse a ridere. E non solo perché tu parli di aria che è già una cosa buona avanti ma anche la cosa più scema dal punto di vista magari chi pensava ai tempi di YouTube di avere una propria identità un canale come ce l'ho io o chi produce dei contenuti nessuno all'inizio l'ha pensato nessuno l'ha pensato era nato YouTube pensa come si è evoluta poi questa idea e quindi sembrava un'idea cioè gli è passata qualcuno in testa non l'ha fatto nessuno all'inizio per cui anche quella che era da mettere in piedi è veramente banale non la fai non la vedi non riesci a ricevere esatto e questa è la famosa oscurità cioè nel senso che c'è una zona d'ombra dove tu ti devi andare a muovere ora ritornando al discorso di questo imprenditore che faceva fuori il 99% delle persone con quelle tre domande in realtà poi c'è una spiegazione più ampia cioè e infatti mi ricordo ancora le sue parole diceva guarda io quando faccio affari perché poi insomma per tutta una serie di situazioni io sono stato in contatto con questa persona per molto tempo lui quello che diceva diceva io quando devo fare affari con una persona non valuto non valuto soltanto l'idea ma valuto principalmente la persona quindi prima di tutto la persona questa cosa mi ha fatto pensare molto anche nel tempo quelle scelte che ho fatto con quelle domande che mi sono che mi sono fatti libri che ho letto e così via ho compreso che molto dipende da noi stessi quindi le prime cinque domande che probabilmente bisogna farsi sono delle domande un po' introspettive e la prima domanda che una persona dovrebbe farsi è questa è perché voglio avviare questa attività cioè trovare il proprio perché ora quando parliamo di perché mi viene sempre in mente Simon Sinek no partire dai perché e così via ma al di là di questo di questo libro è comunque un libro interessante insomma forse la cosa migliore che ha scritto Simon Sinek e così via però capire perché no si voglia si voglia fare qualche cosa probabilmente capire le proprie intenzioni no quello che ti spinge a voler fare quella quella determinata cosa è probabilmente come dire il primo fattore di successo cioè nel senso di capire il perché tu voglia fare quella roba là e mi vengono in mente anche quelle grandi no mission aziendali non so alla Walt Disney no dice non me la ricordo perfettamente però diceva che voleva creare un mondo fatto di grandi narrazioni senza precedenti insomma fare in modo che in qualsiasi parte del mondo si potessero seguire e guardare grandi grandi storie e così via ma ce ne sono tantissime mi ricordo sicuramente l'idea di base di TED quando si fa il TEDx e così via quello di diffondere le idee oppure Tesla quella di accelerare il mondo verso l'energia sostenibile alcune me le ricordo perfettamente perché in qualche modo mi hanno lasciato un segno e quindi anche questa cosa qui cioè di costruirsi probabilmente una propria idea quasi una missione cioè perché vuoi fare questa cosa cosa è che ti spinge realmente a fare questa cosa e quindi la prima domanda è proprio questa non so cosa ne pensi cosa cioè perché vuoi avviare questa attività poi è chiaro che di base la voglio attivare anche perché voglio guadagnare dei soldi ma perché lo vuoi fare cosa c'è dietro non so cosa ne pensi questa è sì è una domanda delle volte difficile perché se pensi tu hai citato Simon Sinek diceva il famoso cerchio dove lui poi dice di ricercare il perché che poi nel momento in cui rispondi a questo perché diventa anche efficace dal punto di vista comunicativo perché le persone si avvicinano al tuo perché ma delle volte questa cosa non riesci a vederla non riesci proprio a vederla perché ti rendi conto che se dici no voglio fare i soldi tu però poi perché per quale motivo hai questa cosa cos'è che ti spinge questo sicuramente ti aiuta per rendere più solido ciò che andrai a fare non credo ma lo sai anche tu non è sicuramente l'unico elemento che ti deve per tenerti in piedi perché probabilmente l'idea come diremo tra un po' deve avere un qualcosa che insomma non lo spogliano come dicono quelli bravi ma devi risolvere qualcosina quindi non è che sicuramente deve essere un'idea tua in ogni caso fare questa analisi ti mette in crisi e delle volte ti allontana dall'idea ed è giusto che lo faccia perché se ti sta allontanando vuol dire che non hai chiaro nulla se invece diventa faticoso ma arriva alla fine diciamo che abbiamo fatto già un grande passo guarda la seconda domanda introspettiva che secondo me è anche importante prima di arrivare a quello che dicevi tu sì ok però vediamo anche la concretezza dell'idea cioè la fattibilità o tutto il resto appresso sei disposto a fare tutto il necessario per fare in modo che accada cioè nel senso che la realizzi sei disposto a sacrificare la domanda che faceva l'imprenditore sei disposto a sacrificare il tuo attuale lavoro perché magari devi lasciarlo per dedicarti ma sei anche risposto a sacrificare il tuo tempo libero magari la tua vita sociale magari altre cose che tu ritieni importanti perché a volte le persone pensano che basta un'idea no? dicono ok c'è un'idea basta un'idea e quindi da questa idea ma in realtà l'idea è soltanto come dire è proprio l'embrione di quello che poi sarà il progetto imprenditoriale che vuoi andare a creare cioè veramente l'idea non è assolutamente niente se non viene se non si comincia a costruire qualcosa di concreto intorno a questo e quindi essere disposti a fare tutto il necessario e quindi avere quella forte determinazione interiore per superare gli ostacoli perché ci saranno gli ostacoli credimi e tu lo sai perché sei un imprenditore e anche tu hai fatto delle scelte importanti e da quest'altra parte anche io ho rinunciato a tante cose ho sacrificato tante cose perché ho capito che dovevo essere disposto a fare tutto il necessario affinché poi il mio progetto imprenditoriale potesse prendere forma e quindi questa è la seconda domanda importante sulla terza e invece qui è quello che dicevi un po' tu cominciamo un attimo a capire se poi effettivamente c'è possibilità di questo qual è il problema che risolve la mia idea imprenditoriale perché chiariamolo subito questo è come dire un nodo nevralgico se non hai se non hai un problema che puoi risolvere con il tuo business allora il tuo è soltanto un miraggio c'è questa pensa ero con con mio nipote che c'ha soltanto 15 anni e lui mi ha detto ah zio ma come si fa a fare soldi sai come si fosse così dal nulla c'è l'albero c'è l'albero disse guarda non è difficile è che complesso perché uno devi trovare un problema effettivamente da risolvere e due devi trovare una soluzione probabilmente diversa dalle altre che appaia nuova se c'hai queste due cose già sei a un ottimo punto per poter guadagnare soldi perché la verità è proprio questo cioè se i tuoi clienti i tuoi potenziali clienti non vedono nel tuo prodotto oppure nel tuo servizio qualche cosa che possa migliorare la loro vita personale oppure anche nel loro lavoro non la compreranno punto cioè finisce qua non so se tu hai qualche altra cosa da aggiungere su questa storia dell'idea l'idea sicuramente quando tu parlavi di sono disposto a fare tutto il necessario e facevi riferimento all'ambito imprenditoriale di una persona che fa un'impresa sì e dico anche a coloro che stanno ascoltando che questo principio lo sappiamo benissimo vale per qualsiasi altra cosa cioè l'idea che non deve essere per forza imprenditoriale ma qualsiasi idea che tu voglia mettere in pratica ok la mia idea è parlavamo prima di youtube di un canale eccetera la cosa che a me succede se i racconti soliti sono questi che gli dico senti ma dovresti caricare un tot dei programmi devi fare devi registrare dei video ma non ho tempo che significa non hai tempo devi tempo così però dovrei fare di un'ora non dovrei andare al weekend a fare questo all'inizio ecco quando noi già ci blocchiamo su questo penso che neanche non ti sbattere nemmeno il cervello a capire che problema risolva perché quiunque qualsiasi idea qualsiasi sfido chiunque a smentirmi qualsiasi idea attività di business un'attività piccola per un libro professionista eccetera comunque ha dei sacrifici da fare comunque ha del tempo oltre se non vuoi fare quel tipo di attività lì devi fare un classico lavoro che ha degli orari stabiliti questo no per cui scelto questa cosa qui sono disposto a fare necessario poi il problema che risolve la mia idea il problema che risolve la mia idea deve essere un problema come dicevi tu che comunque o lo risolve con un punto di vista diverso se c'è già uno simile a te però il problema deve essere anche un problema che in ogni caso il tuo potenziale utente cliente sia disposto a spenderlo basta spendere qualcosa su quella cosa che stai facendo anche questo dovrebbe essere perché se è un problema che risolve però dici sai ho trovato una cosa per catturare le farfalle quando si muovono ho capito però poi chi la compra nessuno disposto a pagare esatto questo capisci anche lì come quegli oggetti che costano un euro che sono messi lì in alcuni negozi ma sono lì inventati ma hanno il mercato ma li vendi a poco ma non è che abbiano sempre una funzione vitale per la vita questo assolutamente poi c'è un'altra problematica che si aggiunge ed è quello che a volte può capitare e qui ci siamo accorti noi abbiamo parlato di youtube che magari è andato a risolvere probabilmente un problema che esisteva ma che la gente non aveva come dire la percezione della sua esistenza molto spesso può capitare che tu hai individuato un problema che le persone non hanno ancora la percezione che esista e allora in quel caso dovrai mostrare alle persone un problema che non sapevano di avere e mi viene in mente la famosa frase di Henry Ford che dice che spiega bene questo concetto dice se avessi chiesto alle persone cosa volevano avrebbero risposto cavalli più veloci all'epoca di quando Henry Ford creò l'azienda e probabilmente ha ragione perché all'epoca le persone non è che pensavano alle automobili pensavano ai cavalli pensavano ai carri pensavano ai cavalli più veloci e così via quindi lì Henry Ford ha dovuto creare anche come dire ha dovuto spiegare che c'era un problema che potevi risolvere in una maniera diversa cioè lo spostamento esisteva sempre ma potevi risolverlo con una situazione diversa che erano appunto le auto quindi anche questo anche questo è importante ma è fondamentale quello che dicevi tu cioè risolve un problema che qualcuno è disposto a pagare affinché venga risolto perché altrimenti diventa un po' così e poi un'altra cosa da andare a prendere in considerazione stiamo in chiusura di questa puntata è quanto è grande il mercato che potresti raggiungere con la tua attività quindi se hai risposto bene alla domanda precedente questa diciamo è una sua estensione quindi insomma questo problema è qualcosa che riguarda solo un gruppo di persone è un problema che è influenzato dal luogo magari in cui vivono le persone non so perché fa freddo perché è troppo alto è troppo basso e così via queste persone quante persone hanno questo tipo di problema oppure il tuo prodotto sarà alla portata di tutti oppure la quantità di denaro che guadagnano entra in gioco perché magari è una soluzione a un prodotto a un problema però è una soluzione costosa costa molto risolvere questo problema il che non è detto che sia una cosa sbagliata perché magari diventa un po' come loro non se lo possono permettere tutti però chi se lo può permettere gli si possa spendere molti soldi oppure viceversa potrebbe essere quello che io chiamo tipo il pane costa poco risolve un problema momentaneo e il giorno dopo lo devo comprare un'altra volta però costa poco e quindi lo compro e quindi hai non so hai un volume elevato di prodotti a un prezzo alla portata di tutti oppure viceversa vendi meno prodotti ma a un prezzo più alto questo è anche molto importante ultimo punto e poi lascio a te la parola e quali punti di forza ti vorresti la metti in campo e cominci proprio da te cioè in che modo tu fai la differenza perché questa cosa che l'ho imparata sulla mia pelle è che noi proprio noi personalmente come imprenditori siamo prima di tutto noi che facciamo la differenza in tutto perché se ci crediamo se siamo risposti a fare il necessario se studiamo se capiamo quello che va fatto se individuiamo tutti gli elementi che devono essere individuati allora a quel punto facciamo la differenza ma capire anche dove si è forti e invece dove c'è bisogno di un supporto a volte mi viene in mente la stessa Apple quando è nata è nata con non so Jobs e Wozniak Wozniak era la parte tecnica era quello che metteva le mani in pasta e che aveva costruito il computer Jobs non aveva idea probabilmente neanche come si mettesse un bullone però aveva il suo come dire potenziale di idea che voleva andare a creare un qualche cosa e quindi aveva un senso di affari che probabilmente sicuramente Wozniak non aveva però insieme hanno creato una cosa importante che non so Carlo Giuseppe qual è la tua idea? Di Wozniak no va bene il discorso no perché pensavo al bullone mi sono immaginato Jobs con una chiave inglese quando l'hai detto non so mi si è acceso questa immagine diciamo che queste cose poi sono strettamente collegate al punto del problema che dicevamo risolvere l'idea un grande mercato e il fatto che se hai un grande mercato significa che anche quel mercato se decido se ci sono persone che spendono quanto devono spendere perché io posso avere anche un mercato dove una persona stia spendendo però ne compra solo uno mille euro finito e invece devo vedere quanto grande affinché questo mille euro sia moltiplicato più volte ci sia spazio sul discorso sui punti di forza e debolezze e qui insomma anche qui un'analisi molto attenta di ciò che stiamo organizzando e facendo proprio perché delle volte non riusciamo a vedere queste cose con attenzione direi che avere comunque anche qualcuno a fianco mentre stai facendo questo torna torna d'aiuto in ogni caso se mi dai la per il riepilogo posso assolutamente assolutamente prima di spostarci alla prossima puntata in cui vedremo i sei modi per testare la tua nuova idea di business ladies and gentlemen il riepilogo di Giuseppe Franco ed era rimasto un po' così bloccato il mio discorso perché dicevo ok punti di forza e debolezza perché perché dobbiamo sempre ricordarci partiamo dal nostro perché nel momento del dubbio oggi stiamo parlando di come fai a sapere se la tua idea di business è buona quindi le cinque domande che dovremmo porci perché voglio avviare questa attività sono disposto a fare tutto il necessario cioè se il sabato voglio andare in vacanza no mi spiace devo stare attento almeno all'inizio numero tre qual è il problema che risolve la mia idea risolve un cacchio di problema quanto è grande il mercato cioè ci sono persone disposte a spendere quante persone ci sono che spendono quali sono i punti di forza e di debolezza questi sono passaggi necessari perché quando noi abbiamo un'idea rischiamo di essere innamorati della nostra idea che gira che si immagina la nostra testa costruisce dei castelli però dobbiamo stare attenti perché questo castello potrebbe essere di sabbia benissimo e per la prossima puntata quindi fra giusto sette giorni riprendiamo questo argomento e vediamo sei modi per testare la tua nuova idea di business e detto questo siate felici ovunque voi siate ciao ciao hai domande lascia un commento se poi ti è piaciuta questa puntata scrivi pure la tua recensione a 5 stelle la leggeremo la prossima settimana tutte le puntate di mai dire 30 minuti di marketing le puoi ascoltare su iTunes Google Podcast Spotify YouTube e Spreaker inoltre su 667.agency slash podcast trovi link a video libri e a molte altre risorse grazie a tutti